A un certo punto, piazza Giovanni Verga a Catania, 4 del pomeriggio, c'era uno assaltato che a Pescala andava a fondare, aveva una canna con un mullinello che stava a Pescala andava a fondare dei malavoghi. Ma si chiamava Maurizio? Si chiamava Sato. Ah, Sato. A un certo punto c'era Rauro Terriero assaltato andava inghiena a votare le ava, che si è vicino a un terzo, ma che sta facendo? Io sto a Pescala andava a fondare, ma non è normale, non è normale, io è pazzo, uno che piscala andava a fondare io è pazzo, ma lei lo conosce, io è mio frate, ma io scusate, non lo volevo fare, ma chi c'era? Se uno è pazzo io è pazzo, non è che uno che piscala andava a fondare io è normale, io è pazzo, io è pazzo, io è pazzo, comunque io non lo faccio, ma chi fa? Non lo faccio, non lo faccio, ma chiunque tanto basta mi faccio un motoscafo e io ne lo faccio. A un certo punto c'era una partita fra formiche e mosche, era un campionato degli insetti, no? A primo tempo i muschi che erano favoriti nel gioco aereo, 4-0 per i muschi, giustamente, no? A secondo tempo i fumigoli fanno il ciasi roscianero, un mille peri, io ho conosciuto un mille peri, è una partita che c'era 48-4 per i fumigoli. A fine partita l'intervista, è particolare che aveva fatto le riprese dall'alto, quindi a terra, e ci fa l'intervista, o capitano dei fumigoli, mi dice, ma come mai, insomma, con questo grande campione non l'avete utilizzato fin dal primo minuto? Ah vai, è che mi sto condannando, tutto il primo tempo se ne io, per attaccare ci scappi! A un certo punto, sempre a un certo punto, a Catania, alla playa, c'era uno che aveva una mano, da questa maniera, no? Uno che aveva nasciuto con questa malformazione, che stava passando la playa, la rena, d'inverno, non è che c'era gente, no? E mentre la passava, non vince, vedi chi c'era sotto la sabbia, c'era una specie di aggeggio metallico, lo tira fuori, una lampada di aladino, precisa, come chi ne aveva visto in due film, no? Mi dice, ha cominciato con una manetta a svegliarla, mi dice, si, 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 improvvisamente, mi dice, tu, 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 una nuvola blu, mi dice, è nesce un genio, mi dice, ho capo 2 mila anni che sono qui, a forza è, desiderio, forza aiuto, che me ne hai chieri, aiuto, forza, mi dice, capri umori, aiuto, il primo desiderio, ci vuole la mano come la luce, finchia, pum, che no? Ha cominciato, pum, tre tiro, hee, 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 hee.